Uno dei diversi argomenti discussi ieri durante il Consiglio Comunale è stato il tema della disabilità e dei centri diurni, dove nei giorni scorsi il Comitato delle Famiglie ha evidenziato più volte, anche attraverso la stampa, la situazione in cui riversano le strutture dei diversi ambiti del territorio e le difficoltà che molte di loro hanno riscontrato nel dover gestire i propri figli affetti da disabilità gravi non potendo contare sugli accessi ai centri e i servizi erogati degli educatori nello stato attuale nel corso del periodo legato all'emergenza sanitaria. Ieri durante il Consiglio i toni sono stati accesi, in particolare la consigliera Tarsi ha attaccato l'assessore Tinti. C'è stato diciamo uno scontro abbastanza vivace tra me e l'assessore Tinti e l'assessore Tinti continua a nascondersi con il suo burocratichese dietro la necessità di fare protocolli, linee guida, di scrivere quindi documenti, di fare riunioni. Io invece continuo a difendere le necessità delle famiglie che si trovano in gravissima, ripeto, gravissima difficoltà per avere a casa questi ragazzi con gravi disturbi dello spettro autistico ormai da tre mesi e mezzo chiusi in casa e segregati. Ci sono una serie di altre situazioni molto critiche che non vedono ancora la via d'uscita. Allora io dico all'assessore Tinti se lui è così convinto che le cose stiano funzionando al meglio allora io suggerisco caldamente all'assessore di telefonare lui di persona alle famiglie di Giovanni, alla famiglia di Michele, alla famiglia di Riccardo, alla famiglia di Niccolò e di parlare direttamente con i genitori se ne ha il coraggio e di dire esattamente la data in cui questi ragazzi potranno riprendere ad avere una vita normale. Canto al tema degli utenti quindi delle famiglie dei ragazzi disabili c'è un tema assolutamente da non trascurare e sono tutti gli operatori, gli educatori, quindi tutti i dipendenti delle cooperative sociali che stanno lavorando in tutti i vari settori per esempio nelle scuole, per esempio nelle mense, per esempio nei centri anche per anziani. Bene, sono persone che non lavorano da tre mesi e mezzo e sono persone che pur essendo in cassa integrazione vedono abbastanza nebuloso il loro futuro. Quindi bisogna farsi carico anche di queste persone, ho calcolato all'incirca sono 350 famiglie nella città di Fano, quindi non è sicuramente un problema secondario, anzi è un problema di assoluta importanza e priorità. La situazione delle famiglie resta complicata, per questo lanciano un appello alle istituzioni. Come genitori chiediamo che su alcuni centri non ha potere, perché ovviamente è fuori dall'ambito, proprio come assessore deve garantire a questi ragazzi un educatore per poter permettere alla famiglia di ricominciare a vivere in attesa che questi famosi centri si decidano a ripartire. Chiediamo anche a gran voce il ripristino degli educatori domiciliari perché a tutt'oggi noi abbiamo bisogno di sapere quando i nostri figli ricominciano a vivere totalmente e voglio rivedere che i nostri figli sono discriminati neanche ragazzi di serie B, sono ragazzi di serie C perché li stanno trattando come degli untori, invece ragazzi con uno spettro autistico oppure ragazzi con problemi comportamentali non hanno problemi di salute. Grazie a tutti. Vensi consenti a tutti. Con una volta e